Tutti gli atleti che hanno finito di combatteri si presentino sotto il podio, grazie. Grazie, attenzione, area 5, categoria Old Cadet, preparo venire meno 42 kg, si preparino da Futo, Emanuele, Carvaglio e Cernano. A seguire su quadrato 2, Stefan, Giulia e Taladina Francesca a seguire su quadrato 2. All'area 3 si preparino Vitale, Emanuele, Patroni e Leonardo, a seguire Odorizio, Michelangelo, Fattacco e Simone, area 3. Area 8, Old Cadet, gialla, arancione, verde, più 60 kg, Serrao, Luca, Massiglia, Angelo, Catami 8. Si prepari per andare più maggiore e nera di Arcade, meno 42 kg, Dimitri, Matteo, Odorizio, Matteo, area 8. Area 5, il prossimo match, da Futo, Emanuele, Puppei, Caravaglio, Gennaro, Nacca, area 5. Area 9, Parisi, Matteo, Dalmolin, Nicola, area 9. A seguire, Talamo, Luca, De Peppo, Gianluca, ripeto, Parisi, Matteo, Dalmolin, Nicola, a seguire, Talamo, Luca, De Peppo, Gianluca, area 9. Si preparano per l'area 4, per la finale, Ambrosio, adesso e D'Amico, l'arancio. Area 8, categoria, gialla, arancione, verde, più 60 kg, Orcate, Serrao, Luca, Massiglia, Angelo. Quadrato 1, Amatte, Giampaolo, Bruno, Raffaele, a seguire, D'Ambrosio, Lanza, quadrato 1, 1. Premiazioni, categoria, Master, Castronovo, Roberto, più 94 miliardi, al podio. Area 8, Massiglia, Angelo, Timoclo, Cobra, Timoclo, Castronovo, Roberto, al podio, per favore. Caravaglio, Gennaro, ultima chiamata, area 5, NAC, Montuoro. 回來, Massiglia, Angelo. Grazie.